E' ancora in coma, si sono aggravate le condizioni del tifoso 44enne della San Beredettese, rimasto ferito durante Tafferugli nel post-partita contro il Vicenza lo scorso 5 novembre. L'uomo, residente in provincia di Ascoli, è ricoverato al San Bortolo con un grave trauma cranico, è stato operato nelle scorse ore. Il fratello del ferito ha presentato una denuncia contro i gnoti in procura. Secondo la questura, come riportato anche nei nostri Tg, dopo il match al Menti sarebbe scivolato mentre cercava di scappare dalla polizia. E avrebbe battuto violentemente la testa contro un cancello. Una ricostruzione che però non convince gli amici del 44enne, solo il filmato della videosorveglianza potrebbe chiarire l'esatta dinamica.